Un progetto molto ambizioso al quale il Corecom ha creduto sin dall'inizio con questo progetto molto molto importante. Entrare nelle scuole, ascoltare le sensibilità dei ragazzi, avere la possibilità di sentire le loro problematiche e capire quali potevano essere i loro sogni, è stato per noi un momento di crescita ed un momento anche per declinare tutte queste esigenze e fare in modo che questo progetto pilota, questa prima tappa su Pescara, possa essere in qualche modo replicata in altri territori con altrettante problematicità della nostra regione. Far emergere il lato buono dei ragazzi è una nostra missione che continueremo e perseveremo con grande tenacia.